La legge è uguale per tutti, si legge nelle aule dei tribunali, non per tutti tranne qualche PM da salto. La mia vita privata è stata messa in pasto a una clamorosa campagna, non soltanto di stampa, una lettera che ricevi da tuo padre. Se hai una sfera di intimità familiare, non è consentito a nessuno violentare la vita delle altrui persone pensando che questo sia giusto. Violentare la vita delle altrui persone, se non le basta, lei ci metto sopra pure Matteo Salvini. Guardate al microfono di Elisa Marioni. So che Cerenzi si ritiene vittima di un'ingiustizia e se la pensa così fa bene a chiedere giustizia. Non conosco le carte processuali, ma leggere sui giornali la lettera di un padre al proprio figlio sbattuta in prima pagina è una vergogna, indegna di un paese civile, questo sì lo posso dire. Dottor Davigo, prego. Dipende sempre da che cosa c'è scritto nella lettera. Se il padre fosse il mandante di un omicidio, secondo lei non si può produrre la lettera. Dipende da che cosa c'è scritto. Non è quello il caso. Diceva Parenza? No, dico no, il dottor Davigo non è quello il caso, la lettera l'abbiamo letta tutti sui giornali e non è quello il caso. Non sembra essere un elemento probatorio così determinante. Ma io potrei chiedere al dottor Davigo che nel giorno dell'anniversario di Mari Pulite anche lui ha ricevuto, credo dai giornali, la notizia di essere stato rinviato a giudizio. Qualora fosse capitato a lui che alcune sue conversazioni finiscono sui giornali, beh, probabilmente anche lui avrebbe detto forse qualche garanzia in più che non vuol dire essere impuniti. Secondo me è un po' questo il grande tema su cui è interessante interrogare Davigo. Cioè il tema dell'impunità è un discorso, il tema del giusto processo, ma quello che finisce all'interno di quel processo e che poi viene diffuso da giornali e televisioni, quello secondo me è un tema che sta a cuore all'imputato Davigo e a tutti noi. Davigo? Credo. Allora, certamente, ma la questione è che queste cose dovrebbero essere poste davanti al giudice, non in Parlamento. Perché invece se ci si fa fare provvedimenti dal Parlamento anziché dal giudice, allora ci sono giustizie diverse a seconda della categoria dei cittadini. No, no, no. Oggi è stato fatto... Calmi, 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 fatelo finire, poi voleva intervenire. Non solo per dire che oggi Renzi non si è difeso dal processo. Se io ritengo che quell'atto... È stato semplicemente sollevato un conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale. Per quel che riguarda il processo Open, tra l'altro, non quello della lettera. I magistrati di Firenze hanno lavorato male e quindi sostanzialmente quelle carte non dovevano... E cosa dice Renzi? Dice guardate che se anche ci fosse una parte interessante di quella lettera, dovevate solamente parlare di quella, non far vedere tutto il rapporto tra me e mio padre e quello, è stato fatto, finalizzato a alzare il caso Crosetto.